Buonasera, di Raymond Carver, attesa. Esci dalla statale a sinistra e scendi giù dal colle. Arrivato in fondo, gira ancora a sinistra. Continua sempre a sinistra. La strada arriva a un bivio. Ancora a sinistra. C'è un torrente sulla sinistra. Prosegui. Poco prima della fine della strada, incroci un'altra strada. Prendi quella e nessun'altra, altrimenti ti rovinerai la vita per sempre. C'è una casa di tronchi con il tetto di tavole a sinistra. Non è quella che cerchi. È quella presso, subito dopo una salita. La casa dove gli alberi sono carichi di frutta. Dove flox, forsizia e calendula crescono rigogliose. È quella la casa dove, in piedi sulla soglia, c'è una donna con il sole nei capelli. Quella che è rimasta in attesa fino a ora. La donna che ti ama. L'unica che può dirti come mai ci hai messo tanto. Il fatto l'unica che ha fatto anche. L'unica che può dirti COME. L'unica che può dirti come mai ci ho messo tanto. Ma non c'è una donna con il tetto di tavole. Grazie a tutti.